Il modello Fiat Barchetta 2025 Nella produzione di modelli alternativi, come auto elettriche e SUV, più adatti al mercato. Tuttavia, la futura Fiat Barchetta è stata oggetto di numerose proposte di design sviluppate da designer indipendenti e appassionati di auto. Le case automobilistiche spesso utilizzano queste idee come base per lo sviluppo di futuri modelli. Cosa riserva il futuro per la Fiat Barchetta 2025? Anche se non ci sono informazioni ufficiali disponibili, possiamo fare supposizioni educate basandoci sulla popolarità dei precedenti modelli barchetta e sulle attuali tendenze del settore automobilistico. Un mix di vintage e contemporaneo. La Fiat Barchetta 2025 avrà quasi sicuramente un design che trae ispirazione dalle generazioni precedenti. Incorporando al contempo tecnologie e comfort all'avanguardia. Questo conferirà alla barchetta un nuovo look senza sacrificare il suo stile caratteristico. Opzioni di propulsione. La Fiat Barchetta 2025 potrebbe adottare un sistema ibrido o completamente elettrico per soddisfare le sempre più rigorose normative sulle emissioni. Il risultato sarà un miglioramento delle prestazioni e una riduzione dei consumi di carburante. La Fiat Barchetta 2025 è probabilmente dotata di caratteristiche tecnologiche all'avanguardia, come il nuovissimo sistema di infotainment, le misure di sicurezza attiva e una maggiore connettività. Più costosa, la Fiat Barchetta 2025 probabilmente costerà di più rispetto al modello precedente a causa dell'aggiunta di nuovi comfort e tecnologie migliorate. Diversi fattori hanno contribuito all'enorme successo della Fiat Barchetta di prima generazione al suo debutto nel 1995, tetto apribile in tela. Lo stile Roadster della Barchetta è immediatamente riconoscibile. Questo design offre un'esperienza di guida ariosa e divertente. Il potente motore e la maneggevolezza agile della Barchetta la rendono un'auto sportiva piacevole da guidare. La Barchetta è disponibile a un prezzo relativamente basso rispetto ad altre auto sportive. L'interesse per la Fiat Barchetta 2025 rimane forte nonostante la mancanza di dettagli ufficiali sull'auto. Un gran numero di appassionati di auto spera che Fiat rilanci la Barchetta, ma questa volta con uno stile e una tecnologia aggiornati. Tuttavia, per saperne di più sulle intenzioni di Fiat, dovremo attendere una dichiarazione ufficiale da parte dell'azienda.